Nelle ultime ore numerosi incendi di bosco e sterpaglie hanno flagellato la provincia di Raggio Calabria generando una situazione critica e di emergenza. In particolare la Locride e l'area grecanica hanno subito l'impennata dei roghi alimentati dal caldo intenso e dai forti venti. Decine di ettari di bosco sono stati già distrutti dalle fiamme lasciando dietro di sé un quadro di devastazione. Tra le zone particolarmente colpite spiccono Montebello Ioni che motta San Giovanni dove alcune persone sono state costrette ad abbandonare le proprie abitazioni per sfuggire alle minacce delle fiamme. L'emergenza incendi non risparmia nemmeno la zona del basso Ioni Regino con diversi comuni che devono fare i conti con il pericolo incombente. Situazione altrettanto grave nella Spromonte dove decine di ettari di bosco sono stati distrutti all'interno del parco. Le operazioni di spegnimento degli incendi hanno visto l'impegno congiunto dei vigili del fuoco e del personale della protezione civile regionale ma l'ampiezza dell'emergenza ha richiesto addirittura l'intervento di un canader per fronteggiare le fiamme aeree. La prefettura di Reggio Calabria ha preseduto una riunione di emergenza convocata dal prefetto Mariani con l'obiettivo di coordinare gli interventi necessari. Durante la riunione sono stati discussi gli episodi di particolare intensità verificatosi nei territori Regini in modo particolare a Monte Bello Ionico, Monta San Giovanni, Melito, Portosalvo, Rogudi e San Lorenzo. Al fine poi di mitigare i danni e garantire il funzionamento dei servizi essenziali è stata disposta la riattivazione di alcuni servizi, quali l'energia elettrica e l'acqua, che avevano subito guasti a causa degli incendi. È stata inoltre richiesta un'azione di monitoraggio per valutare l'efficienza della rete telefonica nelle zone colpite dalla catastrofe. Le autorità locali, insieme alle squadre di soccorso e vigili del fuoco, continuano ad impegnarsi per contenere gli incendi e proteggere le vite e le proprietà dei residenti. Amaro il commento sui social del sindaco di Roccaforte del Greco, Domenico Penna, facendo riferimento ai numerosi incendi di bosco che si stanno registrando nella locrida e nell'area grecanica, scrive, ci risiamo, l'area grecanica brucia. Ancora è nella memoria di tutti l'orrore dell'agosto 2021, quando morirono troppe persone nell'inferno della Spromonte. Dopo due anni, aggiunge Penna, quali azioni hanno intrapreso le istituzioni preposte per prevenire ed affrontare l'emergenza? Il nulla, la mara risposta.